Scusi, led di Fraschiati? Abito a Fraschiati ormai da tantissimi anni, oltre 60. Ecco, allora conosce i patti di Pilozzo? No, i patti di Pilozzo. E i patti di Cacciani? I patti di Cacciani neanche, però mi ricordo per esempio i famosi trattati della Porticella. Ah, e che erano? Quelli che stipulammo tra bande giovanili di non aggressione fisica negli anni 60. No, 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 questa è roba di questi giorni, roba diciamo del gallinaio locale, gallinaio politico locale. E che cosa è? No, questa è la domanda che io faccio a lei, se conosceva i patti di Cacciani, è una cosa legata alla supercazzola. Ah, ho capito, ho capito. Ne vedremo delle belle. Sì, grazie, grazie.